Vogliamo dei tendini d'ozzario per mucce. Fa male che comunque... Ah, se non sei abituato, non si riesce mica a mungerla una volta. Ma lei è tranquilla quando fai sta cosa? Anzi, magari gli piace... Ma di non sempre. Perché ancora c'è il vitello, quando vedo il vitello dopo ti tranquillo. Perché dopo divento io che c'è il vitello. Togliere questo qua, sennò poi entra la mucca. Tu ce la fai a toglierlo? No. No, faccio io. Via, via, via. Adesso si entra. Bravo. Questa la lasciamo qua che è un po' in alto. E io ti passo la legna e tu la metti qua, ordinata, ok? Sì. Bravo. Mettiamo questa corta. Guarda. Con la colla. Come la metti? Così? Bravo. La riempiamo tutta tutta tutta? Tutta. Vai. Sì. No, no. Non riempirla tutta. Poco, poco, poco. Poco. Stamattina è venuta, si è avvicinata da sola. Di solito le mucche che vedo in giro scappano, no? Invece lei tranquillamente. Lei è abituato a stare per le porzioni. Ogni tanto poi dà anche una scornata. Eh sì, me l'abbiamo cercato diverse volte. Però è buona. Non con cattive intenzioni. Non con cattive intenzioni. Non con cattive intenzioni. Voglio filmare le pallette così ce l'ho come ricordo. Guarda che spettacolo. Ciao. 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 Ciao.